La seconda corsa si passa dai 2.000 ai 1.660 metri Cavalli sempre di 4 anni, sono 7 al via, 1 Dilan Grada, 2 Delta Plano Jet, 3 Dominas, 4 Donats, 5 Drive Jet, 6 Decimo Mannu Lippi, in seconda linea 7 Davide Davide contende il pronostico a Delta Plano Jet, i due molto vicini nella valutazione Delta Plano Jet 2, Davide 7, macchina che accelera partiti in questo momento con la velocità di Donats che si avvantaggia allo stacco e passa e cerca di sopravvanzare Delta Plano Numero 5 Drive Jet Così Delta Plano rientra bene all'avversario che è costretto a sistemarsi in scia in seconda posizione precedendo Dominas 14 e 2 per i primi 200 metri con Delta Plano Jet che ha respinto l'offensiva dell'allieva di Roberto Vecchione che si è adeguata in seconda posizione davanti a Dominas e ora all'esterno progredisce Dilan Grada Dilan Grada gradualmente si avvicina ai primi e si trascina Davide mentre in coda c'è decimo Manu Lippi primi 600 di gara in 45 e 9 con 15 e 9 di terzo parziale Dilan Grada avvicina ora Delta Plano Jet alla corda c'è sempre Donats primi 800 completati in un minuto e nove decimi 15 davanti alle tribune con Delta Plano Jet che continua a guidare nei confronti di Dilan Grada all'esterno alla corda c'è Donats a largo Davide chilometro in 1'15 e 7 più indietro c'è Dominas che precede decimo Manu Lippi intanto cavalli che stanno per affrontare la curva finale il paletto dei 400 superato con un parziale ora in 14 e 4 ha decisamente allungato il leader cala Dilan Grada all'esterno cerca di rifarsi sotto anche Donats mentre Davide per il momento non riesce a entrare in partita lungo la corda c'è Dominas completamento della curva ingresso in retto d'arrivo numero 4 Donats squalificato ultimi 100 metri di gara con Delta Plano Jet che ormai ha chiuso da tempo la partita e vince facile nei confronti di Davide che comunque è buon secondo a distanza il terzo vede forse il numero 1 di Dilan Grada che si salva ancora dal decimo Manu Lippi ma i due sono molto vicini 1'14 e mezzo raguaglio conclusivo 29'6 a chiudere dopo 29'2 di penultimo quarto la vittoria per Delta Plano Jet Francesco Tufano in sediolo per contro di Pietro De Muru e del signor Daniele De Muru rivediamo le battute conclusive il primo piano per il vincitore mentre il secondo è per quello che aveva chiuso favorito cioè Davide a chiudere